Innumerevoli azioni pericolose, come per esempio cagare in mezzo al freddo a ghiaccio a 48 gradi sotto zero. Poi nel giugno del 1943 si sposò con una donna bellissima che sembrava un'attrice del cinema, Selene, si chiamava mia nonna Selene, che rimase accanto a lui per tutta la vita, tanto che lui ci scherzava pure sopra, diceva, Simo, tu nonna Selene, ma fregato perché ero ancora congelato. Di mio nonno Rinaldo mi ricordo poche cose, ma dal giorno in cui l'ho conosciuto, fino a quello della sua morte, mi ricordo che ci ha sempre avuto freddo. Forse era quel freddo che aveva conosciuto tanti anni prima, nella guerra di Russia, quel freddo che gli era entrato dentro alle ossa, che viveva dentro di lui, e se lo portava appresso come un vecchio amico, fin dal Natale del 1941. Garbato amore mio, te voglio anch'io, ma me ne devo andare, che non c'ho voglia di fare il soldato, io sono nato per stare con te, e non c'ho voglia di fare il soldato, io sono nato per stare con te. Grazie.